Salve signori, oggi vi vogliamo parlare dell'urbanistica delle città. Molte piazze sono arredate con splendide statue che adornano e migliorano, da un punto di vista qualitativo e anche estetico, la piazza, il luogo dove la gente si riunisce. Ci sono statue che vengono realizzate interamente col marmo, ci sono statue che vengono plasmate attraverso il brozzo. E ci sono statue invece di? Stagno. Statue di? Stagno. Che statue è lei? Di stagno. Sì? Sì, io sono stagno caribato. Da quando? Da sempre. Mi scusi signor stagno, dica. Perché è ritornato in Sicilia lei? Quando è venuto qui a provare con mille quando è venuto con i mille? Sì. Lei ha lasciato alcuni mille qua? Sì. E cosa ha trovato? Un euro. Ah, lei ha lasciato i mille e ha trovato? Un euro. Ancini che venire con mille, venimo qui con 56 tiendesimi. Meglio mille che... 56 tiendesimi.